Una ricchezza che il mondo riconosce all'Italia, ma che gli italiani devono essere in grado di valorizzare. La dieta mediterranea, dallo scorso novembre, fa parte del patrimonio immateriale dell'umanità protetto dall'UNESCO. Eppure troppo spesso la sua qualità e la sua sicurezza sono messe in crisi, da un lato dalla concorrenza di materie prime estere di scarso valore, dall'altro dalla scorrettezza di chi non ha interesse a rispettare le regole imposte dalle istituzioni italiane ed europee. Un tema di cui si è parlato ad Altamura, nella sala Tommaso Fiore del Cal Terre di Murgia, in un convegno a cui hanno partecipato l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Dario Stefano, e il presidente della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Paolo De Castro. Visto che c'è stato questo importante riconoscimento internazionale, facciamo sì che i nostri prodotti possano godere di questo riconoscimento anche con un impegno forte, non solo nel senso della qualità ma anche nella capacità di fare reddito per le nostre imprese. La trasparenza la si può ricercare soltanto attraverso lo strumento della tracciabilità, noi dobbiamo rendere evidente l'origine dei prodotti e di luoghi in cui vengono trasformati, perché questo significa non solo essere corretti col consumatore ma anche garantire qualità e sicurezza alimentare. Qualità dunque come punto di riferimento per la promozione all'estero, un compito di cui si fanno a carico strutture come l'Associazione La Puglia in Europa, che a margine del convegno ha organizzato una degustazione di prodotti d'eccellenza che porterà in giro per l'Europa, da Londra a Mosca, per tutto il 2011 con la rassegna Gustosamente Puglia. Abbiamo nel nostro paniere al momento 25 aziende, tutte 25 aziende di valore. Prodotti di qualità, prodotti che sicuramente non avranno problemi ad avere mercato sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero.